Dunque, sì, ho deciso di... ho ritrovato questo vecchio live set, non mi ricordo assolutamente come si fa, quindi pigerò le cose a caso, però ho foto di goa, di qualcosa di un po' più spinto, di industrial, che parte proprio così. Registriamo, va così. Tic tac tac tac. E che bene? E adesso, ripartiamo, ripartiamo con non so cosa, non so cosa, perché se io fico questo, non mi ricordo cosa succede, ma lo faccio. Ah, devo morire. Ah, potrebbe andare avanti così tantissimo, 150 bpm, goa, via. Stavo a vedere, diventa fantastico, vai. Vediamo, vediamo cosa... Perfetto, non c'è, non c'è, perché non c'è, non c'è, non c'è. verso il studio ora va bene andiamo uso quelle donne, non amare le foglie e ti toccato via andiamo Sì, adesso ricordo, lascia un pochino Eccolo, ricordo 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 Eccolo Eccolo, ricordo 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 Eccolo 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 Grazie a tutti. 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 con... non... oggi. a tutti. ... ... ... ... ma... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 a tutti.